...di cena di Natale, però anche con le mogli. E Minaya parla alla distanza! Minaya! 1-0! Gol straordinario! Diugu, Csuku e Minaya! Grandissimo, grandissimo gol! L'Inter ha perso palla, lui si è girato, ha visto Perruzzi fuori dai pali e ha tirato un tiro incredibile da 40 metri, la palla si è infilata nel senso. Sono contentissimo per questo regalo. Il giocatore dell'Inter e anche i tifosi ha visto quasi sopraffatto dall'emozione di Minaya. Si mancava quasi il fiato, non si è ancora reso conto di cosa ha fatto, perché è un gol straordinario. Gol da 40 metri, bellissimo perché... Ha tirato per cercarlo questo. Si, perché ha visto Perruzzi che non era messo bene. Ancora replay del gol di Eni Naya, un gol bellissimo. 7.50 sul cronometro, il bario in vantaggio contro l'Inter. Esplode la giocatore.